La Pistoia se si è mossa sul mercato anche sul fronte dei portieri. Il primo estremo difensore a giungere a Pistoia è Daniel Salvalaggio, 21 anni, ex Gavorrano. Nonostante la giovane età, Daniel ha già giocato nei professionisti e ha già maturato una discreta esperienza in serie di 81 presenze in due stagioni e mezzo. In questi anni ha vinto un campionato da titolare difendendo la porta del Gavorrano nel 2016-2017. Sempre tra i mare e mani ha debutato nei professionisti nel 2017-2018, giocando titolare fino a gennaio, 19 presenze, prima di passare alla Sanremese di nuovo in serie D. Nel 2018 è tornato al Gavorrano, nel frattempo retrocesso, collezionando 30 gettoni e raggiungendo la finale play-off poi persa. Salvalaggio, che è nato a Carrara e di scuola calcistica a Spezzina, ha anche fatto parte della Primavera dell'Entella. Il portierino era svincolato ed è arrivato alla Pistoiese a titolo definitivo. Daniel Salvalaggio sarà a disposizione di Mr. Pancaro per la gara di Coppa Italia di sabato a Pontedera.